Gregorio, ancora Johnson, finta sul Zunio, posizionamento dei propri compagni, trova ancora Johnson che da tre lunghi che lo scorso anno formavano la coppia titolare all'Euro Basket, ancora in attacco Jess Johnson da due punti, va Johnson in possesso di palla, anche lui ci prova dalla lunga distanza e nuovamente 12 punti di vantaggio, ancora Jess Johnson va a realizzare, va a farsi restituire il pallone, a tirare da tre punti e ancora realizzare. Per cinque, allora Risma che la dà del chiaro end off per Johnson che ci prova da tre punti e va a segno il numero 22 perché poi avrà della rosa che serve subito Johnson, difesa, mani in faccia. Passati tre minuti di gioco e oggi manca il l'accentratore principale Mark Enzio in tasca 52, ancora Johnson vediamo se si affinca.